Bene ragazzi, bentornati su Nicola Palmieri, il mio canale, mi viene sempre da dire tutto sbagliato, è un casino. Allora, mi fa piacere che i miei video vi stiano piacendo. Questo è un nuovo setup della mia camera, cabinato, tv che è spenta, è brutto, un paio di luci. Devo sistemare ancora perché non mi piace proprio al massimo l'illuminazione, devo mettere dei pannelli insonorizzanti, va bene. Però oggi non è questo il punto. Il punto di oggi è Cyberpunk 2077, ancora una volta. Allora, il video è stato apprezzato tantissimo e mi fa tanto piacere che sia stato apprezzato molto, non lo immaginavo proprio. E questo mi ha spronato davvero, davvero moltissimo a fare altri video. Parlare di quello che mi sta appassionando in quest'ultimo periodo, soprattutto investimenti in borsa, bitcoin, cazzi e mazzi, mi fa piacere che vi stia piacendo. Cioè, questo nuovo percorso che ho intrapreso, ho visto davvero che sono aumentati gli iscritti, sono aumentati i guadagni. E aspettate, il titolo proprio parla di questo, dei guadagni di Cyberpunk 2077 dedicato alla borsa, quindi CD Projekt, ma ci arriviamo. Però volevo fare questo piccolo escurso, sta aumentando un po' tutto sul canale e sono davvero, davvero molto contento. Ho tante cose in mente da farvi vedere, da farvi ascoltare e oggi si parla però di CD Projekt. Attualmente sto facendo questo video il 31 dicembre, sto aspettando di andare a cena fino alle 10 di sera, purtroppo. Quindi sparerò i fuochi d'artificio da solo, in camera da letto probabilmente. Ma si parla di CD Projekt. Fermo, fermo Nicola, perché oggi si viaggia, la testa viaggia. Attualmente, dicevo, ho perso app alla mano. Poi vi parlerò anche dell'app che utilizzo per investire in borsa. Vi parlerò di quella che utilizzo per la criptovalute, di quelle che utilizzo, perché sono un paio. E oggi sto a meno 722,56. Ok? Ok? Ma è successa una cosa inaspettata. Io su questo canale non ci guadagnavo un cazzo, no? L'avete visto sul video YouTube come quanto guadagno, vi ho messo proprio tutto il grafico di quello che ho guadagnato. E' una stupidaggine. Bene, mi fa piacere dirvi che il video di Cyberpunk, che è andato strabene perché ha fatto 117.000 visualizzazioni, quindi ad oggi, ha un guadagno stimato di 131,57 euro. Ora, questo che vedete è un lordo attualmente, quindi 131,57 è un guadagno lordo. Va tolto il pezzettino del network, poi va tolto le tasse e via discorrendo. Però, ecco, se vogliamo, è successa quindi una cosa positiva, perché il video di Cyberpunk, oltre ad essere davvero tanto apprezzato, mi ha fatto un centone, un centeuro, dai, puliti arriveranno a 90, ok? Che posso andare a sommare, anzi a dedurre dal mio, dalla mia perdita. Quindi invece di 7,22 sto a 6,22. Ora, è una stupidata, ma fa parte del percorso che, di racconto che vi voglio fare di questo canale, di questo nuovo avvio. Vi posso dire un'altra cosa, una chicca. È una chicca per tutti quelli che vogliono lavorare su YouTube e vogliono cominciare a muovere i primi passi, perché tra tutti coloro che mi hanno fatto delle domande, molti chiedevano di YouTube, del percorso di YouTube. Non tutti sanno che lavoriamo anche nell'ambito business influencing, ovvero tutto quello che ruota attorno a YouTube per l'imprenditore e l'imprenditoria in generale, come fare un canale di successo per un'azienda e per l'imprenditore che c'è dietro l'azienda. Bene, ecco, questo percorso, a quanto pare, vi interessa molto. Sappiate che questo video ha generato un milione e cento di impressioni. Che significa? Che significa un milione di impressioni? È che è stato visto all'interno della pagina di YouTube, delle persone che appunto popolano il mondo di YouTube, un milione di volte. Quindi un milione di volte è passato davanti alla faccia di qualcuno, la mia grafica, quindi la mia thumbnail, e il mio titolone. Non sono entrati tutte queste persone, altrimenti avrebbero fatto un numero molto più alto di visualizzazioni, ne sono entrati centoventimila, che significa una percentuale di circa l'otto per cento. L'otto per cento è un'ottima percentuale per quanto riguarda YouTube, quindi insomma un video molto apprezzato, ha azzeccato quindi anche il titolo e ha azzeccato anche la grafichetta. Questa chicchetta ve la lascio, state attenti quindi quando fate un video su YouTube anche ha la grafica e il titolo. Poi ci sono metodi per portare acqua al proprio mulino che magari vedremo in un altro video. Questo era un aggiornamento su quello che sta succedendo su Cyberpunk CD Projekt. Qualche euro l'ho recuperato perché eravamo in perdita di oltre 800 euro, oggi sono a 80 euro in meno di perdita e con questo video ha il 100 euro. Dai, il recupero di 700 euro si avvicina, insomma ci avviciniamo sempre di più alla me, ci vorrà ancora un bel po'. Però piccolo aggiornamento, stupidaggine a parte, ci vediamo al prossimo video.